Salve a tutti, ed eccoci qua in questo nuovo video. Un video dove non parleremo di nessuna operazione di mercato né in entrata né in uscita del Cagliari, ma di una questione che sta rimbalzando nelle ultime ore e di cui volevo semplicemente parlarvene un po' e dirvi la mia su cosa ne penso di questa situazione. Allora, il ciolito Simeone e Leonardo Pavoletti. Allora, Simeone sembrerebbe essere stato bloccato attualmente da un'ipotetica cessione. Ricordiamoci che Simeone era stato già accostato e comunque era già stata avviata una trattativa con il Marsiglia per la cessione. Il Cagliari però chiede una cifra che il Marsiglia sembrerebbe non voler sborsare. Il Cagliari chiede circa 15 milioni di euro, il Marsiglia se non sbaglio non si alzava, mi sembra, sopra i 10. Quindi per il momento la trattativa era in stand-by, ma non solo. La cessione di Simeone sembrerebbe proprio bloccata per via diciamo di un'infortuna di Pavoletti che non dico che preoccupa la società, però ecco, vuole un po' premonirsi. Il Cagliari vuole un po' premonirsi e quindi per il momento Simeone sembrerebbe un po' bloccato. L'infortuna di Pavoletti riguarda una, non dico una ricaduta, però ecco, un problema al ginocchio, al ginocchio proprio che ha avuto i due problemi al crociato. Sembrerebbe trapelare questo. Del resto Pavoletti non è nemmeno sceso in campo nell'amichevole dello scorso sabato contro il Real Vicenza. È sceso in campo Simeone dove tra l'altro ha fornito una prestazione comunque ottimale con 5 gol, anche se comunque affrontevamo una squadra senza dubbio di livello inferiore. Cosa possiamo dire? Che da parte del Cagliari è giusto, è giusto tutto questo, perché sicuramente Pavoletti è un calciatore a cui lì si vuole dare la titolarità per l'anno prossimo, un calciatore che però non ti può dare molta affidabilità dal punto di vista fisico, questo per via di un'età abbastanza avanzata ormai, Pavoletti va per i 32 se non mi ricordo male, e senza dubbio è un calciatore anche che ha ricevuto due infortuni, si è fatto due crociati negli ultimi due anni. Quindi un calciatore a cui bisogna dar tempo per prendere condizione, per prendere fiducia e sicuramente gli serve anche un sostituto adeguato. Il Cagliari in questo momento secondo me non ha solo bloccato Simeone, ma ha bloccato anche la cessione sia di Seter che di Cerri, che sono scese in campo diciamo nell'ultima amichevole tutti quanti, e sembravano tutti tra l'altro in grande spolvero. Allora, infatti Seter, proprio di Seter volevo parlarne perché sembrava essere anche stato inserito nell'operazione per Altare, che probabilmente avrete anche già visto il video su Altare, che vi lascio magari qua sotto in descrizione il video, di cui parlo diciamo di quest'operazione. E diciamo non ne ho parlato neanche dell'inserimento ipotetico di Seter, però Seter sembrava diretto verso Genua, però a quanto pare non si è fatto più nulla, Altare è arrivato da solo, senza nessuna contropartita e quindi va bene. Per quanto riguarda Cerri invece si era parlato diversi interessamenti di Como, del Perugia, dello Spezia mi sembra, e anche dell'Udinese, o forse era il Cagliari che aveva diciamo offerto Cerri all'Udinese, adesso non mi ricordo bene, però in questo momento sembrerebbe tutto bloccato per via dell'infortunio di Pavoletti, che preoccupa un po' tutto l'ambiente. Cosa posso dirvi? Sì, il Cagliari appunto fa bene, secondo me, a premunirsi, però Sibione è da cedere. Sibione è da cedere perché ha fatto il suo tempo, forse, e non ha più, non ha convinto l'ultima stagione, appena sei gol segnati dal Ciulito, sei gol tra l'altro arrivati in maniera abbastanza discontinua, sono arrivati cinque nelle prime sette giornate, se non mi restanti, nelle restanti trentadue giornate, quindi appena un gol segnato poi contro la Juventus, nel Cagliari-Juve terminato uno a tre. Quindi è un'operazione tra l'altro che potrebbe fruttare tanti soldi e quindi potrebbe diciamo far respirare un po' le casse del Cagliari. Adesso, sul fatto che il Cagliari chieda quindici milioni, è giusto da un punto di vista sicuramente economico e se arrivasse una squadra che ti offrisse 15 milioni per Simeone, ecco io li accetterei subito, perché innanzitutto rientreresti nella spesa, perché Simeone ricordiamoci è stato pagato proprio 15 milioni dal Cagliari, dalla Fiorentina, è stato pagato l'operazione che ha portato Simeone al Cagliari è stata dalla Fiorentina 3 milioni di prestito più un obbligo di riscatto fisato a 12, quindi in totale 15 milioni. Il Cagliari quindi avrebbe potuto tranquillamente, cioè il Cagliari per rientrare nella spesa potrebbe diciamo incassare 15 milioni, però anche se si incassassero 12, 11, 10 milioni secondo me non farebbe neanche tanto male, ecco. In più ci andresti a recuperare un ingaggio che Simeone, se non voglio prende circa un milione, un milione, un milione e mezzo di ingaggio a stagione, quindi anche lì comunque andresti un pochettino a sfoltire. Certo è che sì, è un po' complicato adesso questo infortunio di Pavoletti, però secondo me non c'è nulla di grave per il momento e sicuramente poi in attacco si dovrebbe fare qualche operazione in entrata, ecco in caso poi di gestione di Simeone, anche se si sta in questo momento puntando su altri ruoli, si sta cercando di sistemare Godin, si sta cercando di chiudere definitivamente l'operazione Nengolan anche se sembra tutto ancora in alto mare, si sta cercando diciamo di fruttare il massimo in caso di gestione di Nandez, si sta parlando poi anche di un'ipotetica gestione di Goyanes, quindi ci sono tante questioni in questo momento, ci sono tante operazioni che Cagliari sta mandando avanti e quella di Simeone per il momento sembrerebbe lasciata un po' lì in stand-by, ecco diciamo che gli attaccanti di solito negli ultimi calciomercato del Cagliari si lasciano sempre un po' alla fine, no? Anche lo stesso Simeone è arrivato l'ultimo giorno di mercato nella stagione 19-20, proprio dopo l'infurto di Pavoletti l'operazione di Simeone è stata chiusa in extremis l'ultimo giorno di mercato e poi è scesa in campo, mi sembra, proprio il giorno dopo nel match contro l'Inter, quindi semplicemente questo, quindi in conclusione è giusto per il Cagliari, però bisogna semplicemente dire che se per Pavoletti non è un problema diciamo che perdura, possiamo tranquillamente chiudere l'operazione di Simeone, possiamo anche secondo me, non dico svenderlo, però in qualche modo accettare un'offerta anche un po' più un po' più bassa per fare cassa, forse ho fatto anche la lima, e concentrarci diciamo su altri ruoli, poi questi soldi poi verranno poi reinvestiti su altri ruoli oppure su altri calciatori sempre in attacco, perché diciamo serve qualcosa anche in attacco, serve sicuramente un ricambio, serve una seconda punta, serve un sostituto degno di Pavoletti perché Cerri e Sater penso che non faranno molta strada ancora qua in Sardegna e entrambi secondo me verranno e dovranno essere ceduti. Quindi semplicemente questo, non penso ci sia molto da dire, io adesso vi leggo la... no, ho letto qualcosa diciamo sulla possibile permanenza di Simeone, ma adesso non c'è più, non so bene perché, comunque vabbè. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa possibile conferma di Simeone momentanea o anche definitiva e niente, io vi saluto, forza, castro sempre, e ciao ciao!